Passando al macromodulo dei documenti introduciamo i moduli offerte e ordini I documenti all'interno di Goose si gestiscono e hanno funzionalità molto simili Come prima cosa notiamo subito che i documenti hanno delle differenti colorazioni sia in griglia che in lista Questo è dovuto a uno stato documento Lo stato documento determina che cosa possiamo fare con quel documento o il suo stato di vita Ne apro uno provvisorio, in quanto provvisorio può essere modificato e posto subito in modifica Notiamo che ci sono diversi tab, il primo è quello principale che ci illustra appunto il tipo di documento Noi siamo su offerta perché abbiamo creato appunto delle offerte Causare documento, la causare documento può essere aggiunta da menù tabelle generali causare documento Essa va poi in sostituzione sul pdf sostituendo quella che è la voce tipo di documento Utile per specificare appunto un eventuale causale o aggiungere un descrittivo sul tipo di documento Data del documento, numero documento, numero parlante o meno, campo alfanumerico Può essere richiesto un intervento per renderlo un incrementale composto da una stringa composita Esempio anno, avcd, codice, numero agente eccetera eccetera Stato documento indica appunto lo stato del documento, cliente associato, persona di riferimento del cliente, quindi il referente Agente associato, fornitore, mandante Valuta, listino, IVA, modalità di pagamento, deposito, documento di origine Sono tutti elementi che possono essere autocompilati nel momento in cui andiamo a associare il cliente Si autocompilano, se sono presenti sul cliente Data di scadenza, data di consegna e richiesta Prodotti e servizi, questo è il carrello C'è un video apposta dedicato Qua abbiamo la possibilità di aggiungere i nostri prodotti Aggiungendoli di qui Contrazie all'opposito bottone O grazie al bottone degli acquisti precedenti Qualora volessimo un confronto tra il prezzo attuale e l'ultimo prezzo proposto Come nel video dedicato al carrello Troviamo qui le righe dei documenti, vari sconti Abbiamo la scheda di dettaglio Abbiamo gli sconti testata, gli sconti importo, i nostri totali, le provvigioni, eccetera, eccetera Abbiamo poi il tab della spedizione dove appunto possiamo scegliere la sede di destinazione Qualora il nostro contatto abbia una sede di destinazione alternativa In caso contrario verrà utilizzata quella di default Quindi qua abbiamo tutti i campi dell'indirizzo onagrafico Casuali trasporto, vettore, porto di spedizione E mail destinatari alternativi Come suggerito dal placeholder Qui possiamo andare ad inserire diverse mail separate da una virgola Per far sì che grazie al bottone invio documento che vedremo tra poco Il documento sia inviato anche a queste altre mail alternative Abbiamo poi altri dati sull'aspetto dei beni, il numero dei colli, il peso, il volume, la spedizione, l'ora E le varie spese come spedizione, imballaggio e incasso Tab fatturazione, anche qui dati che vengono presi direttamente dall'anagrafico del cliente Se presenti, dati utili appunto per la fatturazione Dai dati anagrafici ai codici commessa convenzione CUP, CIG e spese bolli Note, numero di documento, cliente o mandante Che possono essere utilizzati da alcuni di voi Date di riferimento, note di stampa Questa è una nota di stampa del documento Questa frase comparirà appunto come nota di stampa del documento Dopo tutte le righe dei prodotti Noti interne, termini e condizioni Termini e condizioni, anche qui che possono essere inseriti da menu, tabelle generali, termini e condizioni Permettono di allegare un descrittivo che magari è sempre lo stesso Che verrà concatenato come ultima cosa nei nostri documenti PDF E poi l'ultimo tab è il tab di firma Che permette di firmare il documento Torno indietro per tornare sull'anteprima Questa è l'anteprima di un'offerta, quindi di un preventivo In stato provvisorio Provvisorio cosa vuol dire? Che può essere modificata, può essere riaperta Sulla scheda principale notiamo appunto Questo documento, i contatti, i vari contatti associati I prodotti associati Quegli stessi prodotti che erano presenti appunto all'interno del carrello Con descrittivi, quantità, sconti, prezzi e quant'altro Gli sconti, lo sconto importo, l'agente, la provvigione Gli imponibili imposti totali La peculiarità dei documenti è quella di avere dei bottoni Dei bottoni colorati che ci permettono appunto di fare delle operazioni Possiamo confermare il documento Se vogliamo cambiare lo stato di questo documento E renderlo confermato Quindi chiuderlo, impedirne quella modifica Ordinarlo, se vogliamo far sì che questo preventivo Se questa offerta diventi un ordine Questo farà copia e incollare il documento in un ordine La nostra offerta rimarrà all'interno di Goose Passerà in stato ordinata Qui sulla sinistra ne abbiamo un esempio E diventerà un ordine Quindi da questo momento io vado a creare l'ordine derivato da quell'offerta Torno indietro Annulla il documento Cambierà lo stato di documento in annullato Annullando appunto il documento Invia il documento mi permette Grazie a un selettore di scegliere a chi inviare il documento Se ha uno di questi contatti O ha le mail alternative Duplica il documento Anche qui va a fare un copia e incolla Della mia offerta Quindi molto comodo Se ho un'offerta preventiva che faccio sempre Posso direttamente duplicarla E questo farà sì che appunto mi ritrovi con un'offerta O con un documento in maniera generica Copia e incollate Quindi fare alcune modifiche e riproporle eventualmente Sui tab della spedizione ci ritroviamo appunto Tutti i valori che vedevamo nel form Solamente quelli compilati Fatturazione è la stessa cosa Noti allegati Anche qui stessa cosa Quindi qui nelle schede di anteprima Vediamo unicamente i campi che sono già compilati nel form Note aggiuntive e note allegati Descritte nei video dei contatti Particolarità dei documenti Il bottone PDF A quale dedicheremo appunto un video Bottone che ovviamente ci permette di creare Un'anteprima PDF del documento qui presente Come anticipavo Offerte e ordini Ma anche tutti gli altri documenti Si comportano esattamente nella stessa maniera Avremo delle varianti fra Offerte e ordini E gli altri documenti fiscali Per i quali troverete un video apposito Ci saranno alcune variazioni Fra alcune funzionalità Campi E cose di questo tipo Ma tutti gli ordini All'interno di Goose Qua prima le fatture Si comportano esattamente Nella stessa identica maniera All'interno di Goose All'interno di Goose All'interno di Goose Grazie a tutti